Piovono altre condanne per la tragedia Track Center di Molfetta, venuta il 3 marzo 2008, dove le esalazioni di acido solforico sprigionate da una cisterna costarono la vita al titolare e a quattro operai dell'azienda. Vincenzo Altomare, Guglielmo Mangano, Michele Tasca, Luigi Farinola e Biagio Ciancalepore. Dopo le sei condanne emesse nel 2009, si è concluso anche il processo bis di primo grado, con due anni e nove mesi di reclusione a cinque tra dirigenti e dipendenti della nuova solmine S.p.A. di Grosseto. Si tratta di Giuliano Balestri, Otorino Lolini, Luigi Manzi, Gabriele Pazzagli e Mauro Panichi. I cinque sono stati condannati anche al pagamento di una provvisionale in favore dei parenti delle vittime della regione Puglia e del comune di Molfetta, parti civili del processo. Condanna due anni col beneficio della pena sospesa per l'Oris Poccetti, il consulente esterno per le funzioni logistiche e commerciali della nuova solmine, ascoltato come teste durante il primo processo. Nel 2009 furono imputati anche sette funzionari dell'ENI, che però richiesero il rito abbreviato e furono assolti all'udienza preliminare. Per la tragedia del 2008, sul banco degli imputati, c'era anche l'azienda bitontina Meliam, che aveva certificato l'affidabilità della Track Center. Per la società e per il suo rappresentante legale Pasquale Bacco, è arrivata la soluzione per non aver commesso il fatto. Prescritto invece il reato di illecito smaltimento dei rifiuti, contestato ad Alessandro Bompane, Mario Castaldo e Pasquale Campanile, che nel 2009 erano stati condannati per omicidio colposo. Le motivazioni della sentenza saranno depositate tra 90 giorni.